Nell'editor BIM, importi il file .dxf o .dvg, su cui progettare l'impianto. L'oggetto BIM superficie inclinata, lo utilizzi per individuare la falda. Dall'editor della superficie inclinata, ne caratterizzi il valore della pendenza. L'oggetto ingombro lo utilizzi per modellare eventuali ostacoli. Posizioni il campo fotovoltaico e selezioni i moduli, con l'ausilio del Wizard. Ottieni il riconoscimento automatico degli ostacoli e il posizionamento corretto dei moduli. Colleghi l'inverter al campo fotovoltaico, e lo selezioni tra quelli compatibili. . Riporti il quadro generale con la presenza dei sottoquadri, in ACI ed ICI. . Selezioni il quadro generale e visualizzi i dettagli, del singolo quadro, e dell'intero impianto. . 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